Bene, siamo nella sezione Intranet e ora andiamo nella sezione Coinco. Ora guardiamo che cosa sono gli stadi, fondamentale da sapersi. Riepilogo degli stadi. Stadio 1. Sono contratti attivi, cioè con almeno un dettaglio in previsione di uscita. Ossia che il contratto che ha dentro dei dettagli e ogni dettaglio è collegato a un'edizione, questa edizione non è ancora uscita. Può essere una pubblicità o un redazionale programmato. Lo stadio 2 invece è che l'ultimo dettaglio è uscito ma con la data compresa nell'ultimo anno. Ossia che l'ultima uscita del cliente è inferiore ai 365 giorni a oggi. Lo stadio 3 è una data compresa fra 365 giorni e 2 anni. Stadio 4 è più di 2 anni. Stadio 5 non ha mai stipulato nessun tipo di contratto. Può succedere che si veda uno stadio vuoto, ossia che sono contatti che sono stati appena inseriti e quindi non è stata ancora fatta la verifica e non sono quindi entrati in stadio 5. Quando sono in stadio vuoto vuol dire, esempio adesso, che sono questi qua, sono appena stati inseriti questi nominativi e presto saranno in stadio 5. A meno che possono entrare direttamente in stadio 1 se diventano contatti attivi. Andiamo di nuovo a vedere. Poi c'è lo stadio DEM. È uno stadio provvisorio e può essere qualsiasi stadio ma è una cosa che quasi mai ci sono. Infatti in questo momento sono a zero. E servono per la spedizione delle newsletter.